Quando sono in città io faccio una vita piena, troppo piena. Ho bisogno di aria, 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 aria pulita. A volte bisogna agire per sottrazione, sottrarsi, fare un passo indietro. Cos'è sta storia che tiri fuori adesso? Vecchia di 40 anni. Vattene via, vattene fuori da questa valle. E non esiste solo il presente, il futuro è un'incognita. Sì, sì. Sua zia continua a ricordare quel momento terribile e lo fa ogni volta che piove. Ma che cazzo ci sei venuto a fare qui tu, eh? Me lo spieghi? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.